Ciao a tutti! Visto le numerose richieste oggi vi parleremo del coprilame e pela patate. Il coprilame e pela patate è composto da un dischi in acciaio inox con un inserto in plastica che va posizionato sul gruppo coltelli. Lavorando con il coprilame e pela patate in senso orario potrai pelare gli ingredienti quale patate, carote e altri tuberi mentre in senso orario potrai cuocere gli alimenti in modo delicato. Il coprilame e pela patate serve anche a proteggere gli ingredienti dal contatto con il gruppo coltelli così potrai cucinare con il bimbi senza alcun problema utilizzando sia la cottura lenta che il sottovuoto. Con questi metodi di cottura si possono preparare carni pesce e verdure in modo gustoso e delicato esaltandone il gusto. Facciamo presente che il coprilame e pela patate è un accessorio per il bimbi tm6 e il bimbi tm5 e non deve essere assolutamente utilizzato con i modelli precedenti. Lo si utilizza in senso orario senza temperatura a una velocità massima di 4 per pelare gli ingredienti mentre in senso anti orario alla velocità massima 1 nel boccale per cucinare gli alimenti senza entrare in contatto con il gruppo coltelli a una temperatura massima di 100 gradi. Il coprilame pela patate non dovrà mai essere utilizzato all'interno del boccale con altri contenitori in vetro anche se sono adatti a cotture sottovuoto in quanto può esistere il pericolo di rottura del vetro. Non deve essere utilizzato mai neanche né con il cestello né con la farfalla. Il coprilame pela patate è lavabile tranquillamente in lavastoviglie. Andrà posizionato nel cestello superiore della lavastoviglie per evitare che si deformi a causa delle alte temperature o per il peso di altri oggetti quindi non posizionate mai nulla sopra. È possibile in alternativa lavarlo anche a mano preferibilmente con una spazzola per le stoviglie. Adesso faremo vedere come posizionare il coprilame pela patate all'interno del boccale. Prenderlo dalla parte in plastica spingerlo verso il basso fino a quando non sentirete resistenza. Per verificare se è posizionato bene ruotare il boccale sotto sopra. Se dovesse cadere significa che non è posizionato bene. Per rimuoverlo sempre dalla parte in plastica tirare con una leggera forza. Adesso nel dettaglio ve lo farò vedere senza il boccale ma voi fatelo solo con le lame posizionate nel boccale. Come potrete notare ci sono due scanalature. Queste due scanalature dovranno corrispondere con le due lame alte. Questa e questa. Andrà incastrato in questo modo. Se verrà posizionato diversamente il coprilame non si incastrerà e rischierà di danneggiarlo. Quindi mi raccomando sempre le due scanalature con le lame alte e va incastrato. Questa operazione va effettuata esclusivamente con le lame posizionate già all'interno del boccale. Adesso proveremo anzi peleremo le patate. Andiamo a cercare la funzione pelare. La prima volta che la attiverete vi apparirà questa scritta. Per evitare di visualizzare in futuro questa scritta basterà mettere la spunta in basso non visualizzare più questo messaggio. Mettiamo nel boccale una quantità di acqua che non deve essere superiore a 600 grammi. E le patate che vi suggeriamo di lavare. chiudere con il coperchio schiacciare sul simbolo del pelapatate e ruotare la manopola. E il bimbi eseguirà tutto da solo. le patate sono pelate basterà sciacquarle sotto l'acqua corrente e sono pronte per essere utilizzate. Mi raccomando non utilizzare più di 800 grammi di patate o carote o altri tupperi. Abbiamo sciacquato le patate sotto l'acqua corrente. Adesso sono pronte per essere cucinate. Copri lame e pella patate. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.